E' Luigi Acanfora, il nuovo comandante della Polizia Municipale, presentato oggi nella Sala Giunta del Comune dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Presente, oltre all'assessore al personale Franco Moxedano e al consigliere delegato Carmine Sgambati, anche il capo di gabinetto Attilio Auricchio, al quale sono andati i ringraziamenti del primo cittadino per il lavoro svolto fino ad oggi come responsabile del corpo in aggiunta alle altre funzioni. De Magistris si è poi soffermato sulle qualità di Acanfora, tra cui la capacità di fare squadra e la consapevolezza delle difficoltà della Polizia Locale ad operare in un territorio così complesso. Apprezzamento per l'attività quotidiana svolta dagli agenti anche nella gestione di situazioni complicate è stato espresso, oltre che dal sindaco, dal capo di gabinetto Attilio Auricchio, che si è dichiarato soddisfatto per il grande lavoro svolto. Da oggi dunque passa al comandante designato Luigi Acanfora alla guida di un corpo che l'amministrazione considera strategico perché rappresenta il primo presidio di legalità e sicurezza urbana.